e ciao a tutti ragazzi io sono elettro 16 e oggi per l'appunto siamo nella minecraft scp yeah che bello dopo la mia voglia di nuovo un altro video vabbè allora oggi siamo tornati nella minecraft scp nello scorso episodio avevamo visto lo slenderman l'scp 582 che devo ancora contenere allora oggi ragazzi sono spawnate nel mondo altre due celle cioè si sono generate due nuove celle perché appunto ce n'è una che è qua dietro che si che per oltre ha spaccato proprio i mondi cioè ve la faccio leggermente vedere cioè raga questa è una cella che si è generata ha distrutto la cella di un altro scp che non so che scp sia però so che ha distrutto un altro scp e poi un'altra cella stava mi sa mi pare se non erro qui da qualche parte accanto qua al tre ecco questa è un'altra cella ma nessuna di queste è la cella che andiamo a vedere oggi perché la cella che andiamo a vedere oggi è appunto da quella parte dove non si generavano scp da anni cioè si generavano tutti da queste parti vicino casa e oggi andiamo a vedere intanto io ho finito il cibo c'è un unico manzo vabbè mi sa che a casa ce ne avevo ancora non ne sono abbassate penso di averne ancora guarda se non ce n'ho bestemmio qua partiranno tante bestemmie e la cella mi sa mi pare come sempre che era ok ok ho fatto il trick ho preso l'acqua era accanto a un albero un albero mi sa che era qui non mi vorrei sbagliare ah eccola qua eccola qua questa è la cella di oggi si è generata accanto a questo mini baglio di chunk in cui l'erba la la roccia sta sopra la erba però va bene così e passa sotto un'altra cella che io sono curioso di vedere quindi faccio così porco disney ah 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 siamo precipitati allora io ho del cibo qua c'ho del pane va bene avevo del cibo no no raga non abbiamo cibo che bello vabbè dopo siamo a tre minuti raga io taglio ci vediamo fra poco ok raga allora ci sono facciamo una cosa intelligente facciamo così facciamo scorrere l'acqua e noi andiamo insieme a lei così possiamo anche vedere chi è questo scp io dalla forma non mi pare di ricordare cosa fosse entriamo sperando che non sia ok ah forse si erano i granchi chirurgici il 098 che non c'è più perché appunto l'avevo portato al laboratorio sento suoni abbastanza particolari mi sa che qua l'scp è abbastanza peculiare aspettate raga devo prendere l'acqua ok si sta baggando tutto andiamo andiamo ok questa è la cella mi sa che c'è un pesce si infatti c'era un salmone è morto qui mettiamolo qua riposa in pace ok ragazzi allora eccoci qua cella molto e intanto ho ripreso il pesce vai vai rimanici là la cella è molto grande abbastanza grande non so quanto però penso sia sapete che scp mi ricorda il dottore della peste perché appunto questa cella l'avevamo anche già incontrata non mi ricordo con quali scp mi sa col dottore apollyon con il dottore della peste j e mi sa anche e si anche col coltello da chef ok eccoci qua e niente raga e niente allora scp 106 il vecchio raga è il vecchio allora 106 originale lo conosciamo tutti è un anziano signore che appunto lui prende le persone le teletrasporta nella sua dimensione tascabile il vecchio apollyon è molto simile però è più evasivo è più potente e come quello originale l'hanno messo nel cubo d'acciaio che è molto peculiare dire di entrare non so anche quanto basse siano queste chiavi qua c'è tutto il cubo d'acciaio raga prima quello originale era bello forte non penso neanche che sti blocchi bastino tanto lui tecnicamente lui dovrebbe averci notato perché intanto noto se c'è ok c'è perché ho dato un pugno se fosse volevo uscire forse sarebbe già uscito apriamo la porta eccolo 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 non attraversa le pareti a quanto pare se io mi avvi ok speriamo che non esca ok raga allora l'abbiamo visto è molto brutto non attraversa le pareti se io mi avvicinasse alla porta non mi attacca vedete io mi sto avvicinando che manco voi sapete alla porta se io gli apro la porta questo prova a uscire appunto ed è anche molto aggressivo e noto anche che mi pare sì che che non muore intanto beh una cosa molto bellissima allora alziamo al massimo i volumi sta al massimo il volume del della cosa allora intanto qua il vecchio non muore perché appunto noi lo stiamo prendendo la porta si è pure richiusa riapriamo la porta lo prendiamo raga io lo sto letteralmente prendendo spadate da boh alla fe vabbè dovevamo vedere anche questo ci ha colpiti e ci ha one shotati e se respawniamo dice SCP 106 U vediamo SCP 106 U ha ucciso elettrostecci 1 2 2 0 raga allora io ritorno nella cella gli altri SCP a polio che avevamo visto questi qua quando morivi ti spawnavano un clone di te questo qua non penso che lo possa fare ma se lo fa so cazzi amari ci vediamo fra poco ok ragazzi sono riuscito a tornare direi di rientrare nella cella madonna ste porte mi fanno ingazzare vai aspetta ok ok allora l'SCP tecnicamente dovrebbe essere ancora nella cella vediamo si infatti perché avevo messo i blocchi quindi allora adesso dobbiamo provare a colpirlo ma tipo tantissimo quindi apriamo la porta no anzi allora qualche ok raga ah no se ne è andato lì allora facciamola così ehm apriamo di qua e prendiamo la spadate prendiamolo continuiamo a prenderlo a spadate se non muore abbiamo la conferma che è immortale ma penso proprio che lui proprio sia vieni qua signor vecchio vieni vieni viacce no raga a quanto pare no a quanto pare è immortale perché lo stiamo prendendo da spadate con la spada di diamante poi non so manco con la spada di nederite e lui non pare morire proviamo con la telekill noi abbiamo la spada di telekill però tecnicamente questa è buggata infatti è buggata non funziona farà gli fa almeno mezzo cuore pure di meno quindi raga è immortale è letteralmente immortale perché non muore quindi raga io direi che l'SCP l'abbiamo visto spero che con questo video esca il giorno che deve uscire non fa la stessa fine degli altri SCP Apollyon che escono il giorno prima il giorno sbagliato e vabbè quindi niente ragazzi io comunque ragazzi direi che per codesto video possiamo dire che sia tutto lasciate un bel like iscrivetevi e da me come sempre elettro16 è tutto ciao ciao